Peso 570 grammi, diametro 80, altezza 82, un record battuto per il secondo anno consecutivo dalla stessa azienda produttrice. Siamo a Turi, regina della festa e la percoca. La gara, per il frutto più grosso, fa da sfondo l'inaugurazione della quarta edizione della sagra dedicata ad una delle eccellenze del territorio. Dopo la benedizione di Don Giovanni Amodio, il taglio del nastro a quattro mani è fidato al vice sindaco Mariangela Volpicelle e al presidente del consiglio regionale pugliese, Onofrio in trona che ha esaltato le capacità di una terra riuscita in pochi anni a valorizzare i propri prodotti sempre più apprezzati sui mercati. Tra le autorità seguite dalla banda cittadina Don Giovanni Cipriani ci sono tra gli altri il parlamentare Pietro Liuzzi, la presidente della Proloco Chiara Spinelli, assessori e consiglieri tutti impegnati a riportare ad alti livelli una festa ed una produzione che oggi può contare su un centinaio di ettari. Riteniamo che i produttori che conservano ancora il culto di questo percoco debbano essere incentivati. Incentivarla in che modo? Attraverso la nuova programmazione 2014-2020 del PSR dell'assessorato all'agricoltura dobbiamo cercare di inserire la valorizzazione, l'incitivazione attraverso i fondi comunitari per i produttori che in maniera costante e con notevoli sforzi tengono forte ancora l'utilizzo di questo prodotto. Non è un caso che la sagra sia stata recuperata appena 4 anni fa. Nata addirittura prima di quella dedicata alla ciliegia è stata protagonista a Turi per 23 anni prima di subire uno stop per 10 anni. Oggi la percocca di Turi con la sua specialità guardia boschi che matura proprio in questi giorni piace soprattutto per il sapore unico. Venduta in sagra al costo di 1,50 euro. Si replica stasera. Venduta in sagra al costo di 1,50 euro.